ed eccoci ricominciamo questa nuova diretta la diretta di lunedì sera come ormai da tre anni che ci vediamo quasi tutti lunedì al 20 oggi continuiamo continuiamo sul sulla scia delle manifestazioni sulla scia delle realizzazioni cerchiamo di essere sempre più precisi sempre più bravi sempre più veloci continueremo oggi con le nostre con il nostro contest oggi ci sarà la sfida numero tre vedrete vedrete che cosa mi sono inventata mi sono fatta aiutare la mia figlia che questa sfida della settimana prossima che poi vi annuncerò alla fine è l'opera sua quindi quindi si fa sempre più interessante come avete visto nei post del gruppo stanno continuando ad arrivare le scale benissimo stanno arrivando le piume azzurre perfetto qualcuno ci sta provando sta mettendo una marroncina o una bianca qualcuno ha messo persino una piuma rosa e tra poco vi dirò perché non vanno bene e non perché io sono cattiva o non ma c'è un perché c'è un perché e oggi ve lo spiego sei pilastri della manifestazione parliamo non parliamo delle cose specifiche ma parliamo ho scritto male nel post ma parliamo complessivamente della vita non di specifiche situazioni o modi di manifestare parliamo del concetto ancora più ampio ovvero chi sei nella tua vita sotto vari aspetti perché proprio questo concetto determinerà la tua forza di manifestazione quindi approfondiamo il discorso della manifestazione come modo di vivere come uno stile di vita comprendere questi argomenti ti renderà molto potente ok allora cominciamo manifestazione materializzazione attrarre le cose in modo consapevole di deve diventare un modo di essere uno lifestyle un modo di essere esatto di vivere un po come quando tu decidi un giorno basta mangiare le schifezze basta trattare male il proprio corpo e decidi di cominciare a mangiare le cose sane e magari muoverti anche fare attività fisica perché ti sei stufato di 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 non prenderti più cura di te stesso magari di stare male avere degli acciacchi ingrassare eccetera e decidi da un giorno all'altro che adesso basta questo corpo mi deve servire ancora per un po' è meglio vivere quell'altro quello che mi è rimasto rimasto da vivere meglio quindi al meglio possibile quindi decido di nutrirmi bene e muovermi magari fare attività fisica per rientrare nel mio peso forma lo stesso con manifestazione noi manifestiamo quindi attraiamo no io non vorrei utilizzare più questa questa parola attrarre le cose adesso parleremo di realizzare di creare di manifestare allora noi manifestiamo le cose sempre 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 e comunque quando venite da me quando mi scrivete anche nel nei messaggi ursula la mia la mia situazione lavorativa non va la mia situazione sentimentale non va il più il mio corpo mi fa male ho litigato con i figli ho litigato con gli amici eccetera eccetera a questo punto io ti posso rispondere significa che non sei consapevole che non ti stai prendendo la responsabilità di quello che hai creato se ti stai lamentando perché dici non sono stato attento non sono stata attenta non mi sto prendendo la responsabilità di quello che mi succede manifestare manifestare noi manifestiamo in qualsiasi momento in tutti i campi della nostra vita ciò che stai osservando nella tua vita in ogni singolo aspetto della tua vita l'hai manifestato tu abbiamo detto tempo fa l'hai attratto tu l'hai materializzato tu è una fotocopia del tuo stato d'essere della tua consapevolezza è una esatta fotocopia di ciò che credi di chi credi essere perché abbiamo già detto la settimana scorsa ma anche due settimane fa che la parola più potente per manifestare è io sono perché quando noi parliamo dell'io sono parliamo della nostra identità e là dentro c'è tutto ci sono emozioni ci sono convinzioni c'è tutto il tutto il sistema dei nostri valori e là abbiamo tutti i nostri programmi quindi se la tua vita non va se la tua vita si sta sgretolando significa che a qualche livello di consapevolezza o meglio non consapevolezza hai delle credenze su di te quindi hai un'identità che non è congrua con ciò che vorresti ma non può essere congrua finché tu non scopri chi sei allora per cambiare la propria vita per cominciare a manifestare in modo diverso tu prima devi decodificare decodificare quindi scoprire che cosa stai manifestando in questo momento e solo dopo che hai decodificato ciò che stai facendo puoi fare il passo quindi ti sei preso la responsabilità di quello che stai materializzando in questo momento in tutti gli ambiti della vita solo allora puoi decidere ok questo me lo tengo questo voglio cambiare questo me lo tengo questo lo voglio cambiare questo è manifestare in modo consapevole perché manifestiamo sempre sempre ho selezionato sei pilastri della nostra vita sei pilastri per prendere la vita a 360 gradi allora il pilastro numero uno essere la migliore versione di te stesso allora noi manifestiamo ciò che crediamo di essere quindi il nostro compito è essere sempre la migliore versione di noi stessi il nostro compito è riscoprire il nostro potenziale attraverso di noi adopera l'intelligenza universale l'energia della fonte l'energia divina come la volete chiamare e esprimere al meglio il nostro potenziale e far fluire questa energia attraverso di noi e questo è riscoprire il nostro potere creativo il nostro potere spirituale adesso sì noi possiamo parlare del potere spirituale fino adesso noi abbiamo parlato del mente cuore anima vi ricordate quando vi ho detto che dietro ogni maledizione c'è sempre una benedizione nella mia vita c'era una maledizione che si che mi ha spinta a scendere giù per risalire ancora più più su e adesso parleremo della spiritualità non solo mente cuore anima ma anche spirito spirito la parte più grande di noi ma è quella parte alla quale ci siamo sempre rivolti nel metodo mca quella parte che abbiamo chiamato sempre se superiore che nel comando mca ci protegge per non fare non installare le credenze che potrebbero nuocere ed è quella parte che ci guida che con la quale ci connettiamo quando al secondo livello del metodo mca uniamo mente cuore anima facciamo la connessione tra mente cuore anima e facciamo adoperare il sé superiore è per questo che nel secondo livello del del metodo mca noi possiamo lavorare anche sugli altri senza violare il loro libero arbitrio io vi ho sempre insegnato che i comandi vanno quindi il comando chi non lo conosce è il miglior modo più veloce più efficace per riprogrammare la mente subconscia per cambiare i programmi di mente della mente subconscia però vi ho sempre detto che i comandi devono essere lanciati sempre solo su di noi o in modo generico per cambiare le convinzioni sul mondo sulle persone per per cambiare la nostra opinione sugli altri ma non si lanciano mai i comandi in terza persona i comandi per gli altri perché il perché così è uno strumento diventa uno strumento di manipolazione quindi non si non si fa mai la manipolazione perché se perché perché creiamo il karma negativo che ci torna dietro indietro invece noi siamo qua abbiamo scelto di vivere in questa epoca molto particolare molto burrascoso ma fantastica meravigliosa perché abbiamo deciso di strappare i legami karmici disco non scontare di trasmutare il karma di invertirlo in dharma che cos'è il karma è scoprire i nostri talenti mettersi proprio nella nostra missione basta con i vecchi programmi basta con la zona d'ombra basta adesso bastano le sofferenze le pene eccetera abbiamo già dato adesso invertiamo la polarità adesso entriamo nel dharma e adesso viviamo nel flusso nel benessere nell'amore nella gioia nell'abbondanza anzi nella prosperità quindi scopri il tuo talento e mettilo al servizio degli altri ok sono partita per la tangente quindi adesso il primo pilastro è diventare la migliore versione di noi stessi è la migliore versione di noi stessi la possiamo possiamo diventare la migliore versione quando cambia la nostra identità quando cambia il nostro io sono quando riconosciamo lo spirito quindi il sé superiore dentro di noi e cominciamo a creare in connessione con il sé superiore è là che ci eleviamo ad un altro livello ma questo avviene per gradi intera esistenza è filtrata dalle lenti della tua consapevolezza quindi tutto ciò che osservi del mondo dipende da ciò che credi di te stesso allora se odi il tuo lavoro attrarrai tu pensi tu pensi di essere una persona che odia il proprio lavoro se ami il tuo lavoro tu pensi di essere una persona che ama il suo il proprio lavoro se se non ti piace una cosa se non ti piace il pane tu credi di essere una persona la quale non piace il pane se ami la pizza tu credi di essere una persona che ama la pizza questa questo è il livello di identità adesso nella mente subconscia tutto può essere cambiato il nostro compito è portare l'inconscio al conscio cioè scoprire quello che abbiamo dentro il nostro subconscio quindi quello di cui non siamo consapevoli quindi scoprire che tipo di identità abbiamo che cosa pensiamo che cosa crediamo di noi stessi portarlo alla consapevolezza è creare una nuova identità quindi ciò che è conscio farlo diventare inconscio ok mi seguite prima portiamo l'inconscio lo portiamo al conscio e poi il conscio porta portiamo nell'inconscio non sto sbagliando mi state seguendo vi spiego meglio portiamo dalla dalla zona d'ombra portiamo i vecchi schemi le vecchie credenze su noi stessi le portiamo alla consapevolezza le cambiamo e le installiamo quelle nuove installiamo nel subconscio come con i metodi che conoscete io e i miei studenti lo facciamo con il comando mca esempio se io sono una persona che ama la pizza sono una persona che ha tendenza di ingrassare con farinacei con la farina scopro che mi ritengo una persona che ama la pizza lo scopro lo cambio decido perché decido lo porto alla consapevolezza io mi ritengo una persona che ama la pizza l'ho portato alla consapevolezza decido di mangiare sano perché torniamo al discorso di prima mi voglio mettere il mio nel mio peso peso forma allora cambio la mia identità mi installo il programma che amo insalata si può si si può non sto scherzando installando le convinzioni cambiando la vostra identità potete ciò che avete immaginato a livello razionale a livello conscio lo potete installare nel subconscio è in questo modo che si la nuova identità è in questo modo che cambia la vostra vita e questa la nostra meraviglia questo il nostro libero arbitrio perché io posso scegliere ok voglio essere una persona che ama la pizza o voglio essere una persona che ama insalata o magari amo il pesce amo il pollo amo il sushi o amo mcdonald io posso scegliere ma solo se entro nella neutralità se lo porto e se non giudico lo porta la consapevolezza e la cambio il programma e divento da un giorno all'altro si posso diventare da un giorno all'altro una persona che ha cambiato la propria identità e siete sicuri e stiate sicuri che le mie azioni cambieranno perché se io a livello profondo sono diventata una persona che ama l'insalata io non avrò voglia di sfondarmi di pizza o di mcdonald io cercherò in automatico avrò la tendenza di mangiare insalata e sarà molto più facile per me mangiare l'insalata vabbè mi sono attaccata adesso al cibo visto che siamo ora di cena ma possiamo fare lo stesso esempio parlando del del mindset dell'abbondanza che abbiamo fatto per tanti anni due anni oppure possiamo parlare dei rapporti di coppia io posso ritenermi una bravissima moglie o una una compagna in una relazione premiante oppure posso posso a livello di identità credermi quella che viene sempre lasciata come seconda scelta siamo sempre parlando di ciò che sto manifestando perché credo perché è quello che credo di me stessa e lo osservo fuori quindi primo step rendere inconscio conscio secondo step cambiare nei programmi che desidero e poi quello che ho scelto a livello conscio lo faccio diventare di nuovo inconscio in modo che gira in automatico come programma in sottofondo e io non ci devo pensare mi viene facile quando divento una persona che appagata nella relazione di coppia non mi devo sforzare avviene da solo la nostra identità non è una cosa determinata ma può essere cambiata e questo le persone non lo sanno perché spesso dicono ah io sono così non ci posso fare niente niente non è vero noi possiamo cambiare la nostra identità noi possiamo cambiare la nostra identità io sono la prova vivente e anche la maggior parte dei miei studenti pilastro numero due allora il primo cambiamo l'identità come piace a noi pilastro numero due prendersi cura cura del tuo veicolo fisico non possiamo manifestare con facilità con con gioia con amore se il nostro corpo fisico duole se il nostro corpo fisico è sofferente non lo possiamo fare perché ci abbassa talmente tanto energie ci blocca talmente tanto energie le energie che noi non abbiamo neanche lucidità uno non siamo più canali puliti non possiamo connettersi con il sé superiore e due non abbiamo neanche lucidità per inventare per immaginare ciò che vogliamo essere quindi salute benessere psicofisico salute fisica e benessere psichico benessere mentale e unione tra i due è fondamentale e molto spesso vi racconto se stai male non puoi pretendere di creare da questo livello di consapevolezza se stai male se sei giù se il tuo il tuo corpo sta male se la tua anima piange urla si dispera se l'anima piange magari ti viene anche il catarro o raffreddore inutile sforzarsi di fare grandi cambiamenti al livello di identità prima prenditi cura di te stesso prima rigenera le tue energie e solo dopo parti a manifestare altro è molto importante avere cura amore e rispetto per il nostro corpo perché ci deve servire ancora per diversi anni non so che programmi avete ma io come programma penso di insegnare fino a 90 anni quindi ancora ne ho diversi da vivere io voglio lavorare fino a 90 anni anche voi vero ok andiamo avanti pilastro numero 3 soldi e lavoro carriera successo quello che volete ognuno è libero di scegliere quello che desidera se noi dobbiamo esprimere la nostra migliore versione di noi stessi e se abbiamo libero arbitrio e se veramente possiamo creare tutto ciò che desideriamo allora perché no soldi prosperità lavoro carriera abbondanza successo ti devono permettere di realizzare il meglio di te stesso in questa vita non nelle vite future perché ci sono alcuni che magari adesso sgobbano per vivere meglio quando saranno vecchi no il momento del potere è adesso i soldi che è una forma di energia e oggi dalla sessione di oggi è uscito fuori sia quelli in contanti sia banche note sia le monete sia i soldi virtuali che tanto adesso non so se già si è calmata questa polemica tutti davano addosso ai soldi virtuali se voi snobbate i soldi virtuali vi tagliate alla ricevere perché se io ripugno qualsiasi forma di moneta chiudo rubinetti a me stessa sono solo forme di energia se giudichi male i soldi sei tu per primo a non non aprirti a ricevere quindi non te la puoi prendere con gli altri che c'è poco denaro in giro il denaro c'è eppure tanto ma quanto sei in grado di ricevere quanto sei aperto al fatto di ricevere il denaro attenzione andiamo avanti quindi i soldi ci devono permettere di vivere al meglio in questa vita perché perché noi dobbiamo anche dare il massimo perché per la nostra autorealizzazione noi dobbiamo dare il contributo per gli altri noi dobbiamo lasciare la nostra traccia e adesso non importa io non dico che tutti dobbiamo essere madre teresa di calcutta o non dalai lama no ognuno fa quello che è destinato che quello che ritiene giusto fare io mi posso prendere se mi sento autorealizzata prendendomi cura dei gatti randaggi nel quartiere va bene così va bene così ma veramente mi sento autorealizzata veramente sono nell'amore nella gratitudine nella gioia e sono uscita dai schemi mentali attenzione perché io posso stare anche nelle frequenze molto alte e rimanere nella povertà perché comunque sono nella gabbia mentale perché perché penso che essere nobili e essere poveri magari perché magari sono rimasta nelle in uno dei dogmi religiosi di san francesco che ci hanno raccontato che era povero diventato santo quindi attenzione quindi noi dobbiamo dare il meglio di noi stessi vivere al meglio perché perché no perché non soldi lavoro successo perché no quindi questo il lavoro è un altro pilastro fondamentale adesso più sei importante più persone aiuti più il tuo contributo è importante più vivi nell'abbondanza più persone sei in grado di aiutare più doni la tua energia più energia ti ritorna sotto la forma del denaro quindi chiedetevi per quante persone siete importanti? per quante persone siete importanti? entra nel flusso dell'abbondanza e di prosperità apriti al fatto di ricevere e non farti limitare dai soldi o dal lavoro perché noi spesso ci facciamo limitare dai soldi o dal lavoro in che senso? nel senso che abbiamo le convinzioni limitanti sui soldi e sul lavoro e qua torniamo al punto numero uno quando abbiamo detto chi credo di essere? io credo di essere la persona che lavora duramente per pochi euro al mese? io credo di essere una persona che lavora 12 ore al giorno per fare gli straordinari per arrivare alla fine del mese? o io credo di essere una persona benestante che guadagna sempre più di quanto ne ha bisogno sempre parliamo a livello dell'identità stare nel flusso e anche entrare nello stato di grazia dove c'è il flusso di energia e questo flusso di energia che abbiamo detto la connessione con il sé superiore ti permette di muoversi in maniera diversa ti permette di fare azioni diverse ti permette di ascoltare il tuo sé superiore sentire i suoi suggerimenti che ti fanno arrivare le intuizioni basta che poi tu le sai ascoltare le colli e le metti in azione allora la settimana scorsa giovedì ho avuto una conversazione con una persona che mi hanno fatto una proposta io non sapevo come risolverla non sapevo perché non vedevo proprio ho detto va bene per voi c'è un vantaggio ma io come ci guadagno cioè dove è il sistema win-win-win abbiamo parlato di questa cosa l'ho accantonata perché avevo altre cose di cui pensare oggi mentre stavo in palestra senza pensare mi è arrivata l'intuizione oggi è lunedì da giovedì non ho più pensato mi è arrivata l'intuizione come risolvere questa situazione non ho pensato arrivata l'intuizione penso che ancora non l'ho esposta penso che andrà accettata quindi quando sei nel flusso quando sei nello stato di grazia l'energia si muove in modo differente nella tua vita e ti permette di raggiungere risultati diversi quindi elevarsi fare meglio fare di più diventare la versione migliore di te stesso pilastro numero 4 la bellezza nella vita più ti elevi più ti ami più ti rispetti e più ti circondi di bellezza scelvi sceli in modo consapevole le persone che ti circondano le conversazioni nelle quali delle quali fai parte ma anche oggetti anche ambienti anche la cura di se stessi quindi magari cambiano cambi i capelli cambia la tua pelle cambia la tua luce interiore luce che esce che emana il tuo viso luce che emanano i tuoi occhi e le persone se ne accorgono quindi anche la bellezza è importante comincia ad abituarti alla bellezza la puoi anche non comprendere però comincia ad abituarti e vedrai che più ti elevi più ti ami più ti rispetti più sceglierai la bellezza nel tuo intorno a te intorno a te nell'aspetto fisico nell'aspetto relazionale ed è la bellezza legata molto al punto numero due dove abbiamo parlato di prendersi cura del benessere psicofisico punto numero cinque il pilastro numero cinque è la spiritualità e la spiritualità è fondamentale perché grazie alla connessione con il sé superiore la nostra crescita personale ad un certo punto diventa la crescita spirituale perché saremo sempre più connessi e saremmo sempre più guidati dalla forza da questa intelligenza universale quindi sempre più intraprendiamo le azioni mirate arriveranno intuizioni e noi faremo le azioni mirate essere connessi e per essere connessi prima di tutto dobbiamo riprogrammare i nostri schemi subconsci dobbiamo imparare a rallentare la nostra mente rallentare per avere più forza di manifestazione ma la mente non rallenta finché non abbiamo cambiato i programmi di sopravvivenza perché la mente per default è fatta per vivere nell'alerta con adrenalina a palla la mente è fatta è progettata per vivere per cercare per difendersi per difenderci per combattere per cercare e assumere che ovunque c'è il pericolo di vita è progettata così quindi ciò che dobbiamo fare rallentare riprogrammare la mente ossia di nuovo portare al conscio ciò che è nascosto nella profondità della mente cambiare con i nuovi programmi e reinstallare dentro riprogrammare la mente per farla farle comprendere che la tranquillità e il rilassamento mentale sono vantaggiosi per noi perché solo quando la mente non è allerta noi abbiamo il cento per cento del potenziale mentale è solo quando il subconscio è collaborativo collaborativo ossia programmato per le nostre per i nostri obiettivi allora la attraverso il subconscio noi possiamo entrare in connessione con il nostro sé superiore con il superconscio noi non ci possiamo connettere con il nostro spirito con la mente razionale non c'è questa possibilità noi con il nostro spirito ci possiamo collegare solo attraverso il subconscio ma il subconscio per fare questo deve essere pulito pulito dai programmi di sopravvivenza deve rallentare tu non puoi essere connesso con entrambi o sei connesso con i programmi di sopravvivenza quindi vivi nell'ansia, nella paura, nella tensione, nell'adrenalina oppure puoi essere connesso con il sé superiore sono due frequenze completamente diverse completamente diverse quindi spiritualità e rallentare uscire dai programmi di sopravvivenza uscire dallo stress ed essere presente qui ed ora riconoscere che il momento presente è tutto ciò che è riconoscere quindi rimanere nel momento presente vi ricordate le dirette vecchie dirette sull'abbondanza riconosce rimanere nel momento presente sette giorni su sette ventiquattro ore su ventiquattro sette giorni su sette questa la presenza la presenza è accorgersi dei propri pensieri la presenza è accorgersi delle proprie emozioni la presenza è rendere inconscio conscio e lavorando su di voi diventerete sempre più sensibili sempre più attenti sempre più presenti stavo riflettendo giusto stamattina che ho avuto una notte insonne perché mi è uscito fuori fuori di nuovo un altro un programma che riguarda la famiglia praticamente adesso sono diventata così sensibile che ogni singola cosa anche piccola che stona diventa un dramma per me stanotte non ho dormito perché mia figlia stava male con lo stomaco la mia mente è partita all'attacco e già creava i scenari catastrofici stava male di stomaco e stava esagerando perché perché sono diventata molto più sensibile ma grazie a questo io la mattina la prima cosa che ho fatto quando non riuscivo più a dormire sono andata la a cambiare questi programmi li ho visti meglio è un po' quando diventerete diventerete più sensibili come se ci fossero i riflettori la vostra la luce del sè superiore che vi mette riflettori guarda devi vedere questo schema se non cambi questo schema non ottieni i tuoi risultati perché poi tutto è collegato stiamo parlando adesso di sei pilastri della manifestazione che devono essere tutti all'unisono ci dobbiamo lavorare devono essere armonizzati tutti all'unisono perché se una parte rimane indietro non funziona ok andiamo avanti 41 mi devo sbrigare quindi pilastro numero 5 spiritualità che è fondamentale non è separata dalla crescita personale e non è separato dallo stato di grazia dalla guida con sé superiore quindi dallo stato di flusso il pilastro numero 6 che sono amore famiglia e relazioni quando evolvi quando cresci cambi tu e cambiano le tue relazioni nelle relazioni insieme col denaro anche salute fisica diciamo che questi sono tre argomenti chiave salute fisica denaro e le relazioni sono tre argomenti tre settori che ci fanno crescere più in assoluto che ci mettono più in assoluto alla prova noi normalmente vogliamo cambiare cambiare le altre persone vogliamo cambiare chi abbiamo di fronte ma torniamo al discorso di nuovo di prima le persone di fronte sono la tua manifestazione quindi ti stanno dicendo quello chi credi di essere se nella relazione non va chiediti scendi nell'inconscio e chiediti che cosa credo di essere che opinione ho su me stesso su me stessa per creare una relazione del genere le relazioni sono quelle che ci fanno evolvere maggiormente e quando evolviamo quando cambiamo al livello sempre di identità cambiano le relazioni cambiano le persone nella relazione adesso smetti di dire io voglio io voglio avere io voglio essere io voglio fare smetti di quando tu dici io sto lavorando quando tu dici speriamo quando dici ci proverò significa che non ci sei tu devi perché ecco oggi ci ricordate tu puoi essere o nella frequenza dell'abbondanza o nella frequenza della scarsità quindi tu puoi essere una persona oppure un'altra non esiste ci provo speriamo o amo la pizza o amo insalata o sono una vincente o un o sono una vincente o sono una perdente o sono una persona che vive nella relazione d'amore premiante o sono una persona che sente la solitudine oppure ha una relazione disastrosa in ogni istante in ogni istante 24 ore su 24 ore 7 giorni su 7 non posso non possono coesistere due stati ogni volta che tu dici proviamo speriamo significa che stai qua che stai qua e non hai fatto il cambiamento della tua identità noi viviamo in un mondo dell'illusione illusione della mente però abbiamo detto che noi questa illusione la possiamo portare al livello di consapevolezza la possiamo cambiare e la possiamo ri reinstallare nell'anno nel nostro subconscio e si dice ciò che puoi immaginare lo puoi fare esattamente questo noi abbiamo uno strumento meraviglioso che è l'immaginazione ed è esattamente quello che stiamo facendo con la sfida immaginiamo le scale la prima settimana abbiamo immaginato la piuma azzurra la seconda settimana e poi che è successo l'abbiamo installato nel nostro subconscio perché con il rilassamento della sera abbiamo immaginato sentito questa la scala sotto le mani le piume magari pioli sotto le mo la ringhiera sotto le mani la piuma leggerezza e morbidezza della piume tra le dita delle piume della tra le dita e la nostra mente l'ha preso per vero e così l'ha manifestato e voi siete rimasti sorpresi perché la manifestazione la creazione funziona proprio così sia nelle piccole che nelle grandi cose e noi possiamo immaginare qualsiasi cosa possiamo cambiare installare questa immagine dentro noi cambiare la nostra identità che sia congrua con ciò che abbiamo immaginato ed ecco fatto si deve materializzare nella vita 3d e la legge non può essere diversamente allora adesso è facile farlo con la piuma dove non c'è attaccamento all'obiettivo la vedo non la vedo non è che mi cambia niente molto nella vita è più difficile quando dobbiamo fare sulle cose più importanti è là che c'è più attrito più lavoro più difficoltà più difficoltà perché dobbiamo portare alla consapevolezza tante cose inconsce è là che servono gli strumenti validi perché senza le conoscenze senza gli strumenti è davvero difficile perché la mente è fatta per non essere scoperta quindi ha tutta la serie di pro di programmi di firewall di programmi per non far vedere quello che c'è veramente dentro e qua oggi c'è una sorpresa vi voglio invitare al corso del metodo MCA in una versione speciale questa sarà ultima edizione del metodo MCA siccome vi ho già annunciato sto facendo grandi cambiamenti ci saranno anche i cambiamenti nei corsi saranno formulati in modo completamente diverso cercherò di unire adesso avete già visto con il corso delle emozioni che ho lanciato il pacchetto individuale cercherò di fare i corsi meno numerosi ma con più contatto personale quindi poche persone a stretto contatto con me ovviamente cresceranno aumenteranno anche i prezzi perché il servizio sarà completamente diverso e per questa volta invece il 23 maggio comincia la seconda il secondo livello del metodo MCA è l'ultima volta che lo faccio in questa forma con questa e con questa metodologia è per questo che chi vuole approfittare ancora non ha fatto il metodo MCA ho messo il pacchetto promozionale per prendere entrambi i livelli chi prende entro il veneno lo lascio ancora per una settimana quindi potete prendere entrambi i livelli i livelli del metodo MCA quindi quello del comando che serve per riprogrammare i programmi subconsci è il secondo livello che attivazione MCA attivazione mente cuore anima dove impariamo a lavorare con i nostri corpi di luce dove impariamo la trasmutazione alchemica dove utilizziamo dove diventiamo noi lo strumento e con l'attivazione possiamo lavorare su noi stessi su tutte le situazioni della vita e anche sugli altri perché la mettiamo da parte la nostra mente razionale la nostra mente egoica la nostra mente che è piccola come cervello di una gallina sempre detto questa cosa quella che non sa e crede di sapere e la facciamo fluire il tutto quindi il nostro se superiore e l'energia intelligente che fa il lavoro per il massimo bene di tutti quindi in realtà i pacchetti sono due allora se volete corso del comando questa è la prima opzione che è il primo livello del metodo MCA il secondo da acquistare separatamente il secondo livello del metodo MCA chi ha fatto il comando vi invito a fare questa edizione del metodo MCA dell'attivazione MCA perché è l'ultima volta che la faccio in questa forma l'opzione numero 3 entrambi i livelli quindi primo e secondo e opzione numero 4 entrambi i livelli del metodo MCA più cinque sessioni individuali al prezzo scontatissimo promozionale visto che l'ultima edizione ok per le informazioni potete chiedere a me vi potete scrivere in privato scrivere nei vari gruppi scrivere mail mandare il piccione come volete e poi aspettate non ve ne andate perché adesso passiamo alla sfida quello che mi è uscito dai vostri post quando materializzate le cose quando vi arriva la foto della piuma o della scala mettete per favore le foto non come post nel gruppo così generale perché se mettete il post perché qualcuno mi ha pubblicato la foto così poi dopo dieci settimane questo post si è perso mettete sempre la foto sotto il post relativo alla sfida nel nel gruppo facebook in nella sezione in evidenza io vi metto tutti i post quindi sotto il post mettete la foto perché poi quando ci sarà l'estrazione finale chi ha messo che ha pubblicato così random io non lo trovo invece sotto i post io vado dopo a non so come a recuperare ok quindi questa prima cosa la seconda cosa se qualcuno ancora scrive Giuliana non ha visualizzato non fa niente ricordate la il metodo tre o cinque giorni visualizzo dopodiché stacco stacco non continuo sei sette otto dieci dieci serie di seguito no tre o cinque cinque dopo di che basta no non salirò su nessuna scala non non troverò nessuna piuma perché già fatto dovete assumere che avete già fatto dopo un po dopo tre cinque giorni potete riprendere da capo qualcuno mi ha mi ha chiesto ma se entro nella sfida adesso posso faccio in tempo a recuperare sì fate in tempo abbiamo dodici settimane io non guardo la data quando avete materializzato qualcuno sta già avendo problemi con l'attecca me l'attaccamento all'obiettivo mi ha detto ah io non riesco a visualizzare io mi sforzo troppo proprio per questo se ti sforzi troppo non riesci perché sei se mi sforzo significa che non ho non ho assunto che è già fatto ok quindi attenzione ancora abbiamo cinque minuti un'altra cosa perché non vi dovete accontentare della piuma blu scusate della piuma rosa o della piuma grigia o della piuma bianca perché deve essere azzurra perché il subconscio si abitua che scendete ai compromessi ma noi non lo vogliamo perché noi possiamo scegliere quindi se io ho scelto la piuma azzurra azzurra deve essere la piuma non il disegno nel cielo delle nuvole guardate bene di educare bene il vostro subconscio perché questo è solo allenamento poi andiamo a materializzare l'uomo della propria vita il lavoro della propria vita i soldi appalati scherzo però fino a un certo punto luciano anch'io non riesco a visualizzare nella scala nella piuma ma io sono sicura che siete riuscite a visualizzare infatti giuliana ha scritto ma non ho materializzato perché c'è troppo attaccamento al risultato visualizza e poi scordalo e assumi che l'hai già visto che l'hai già trovato grigie ne ho trovate due insieme non contano le grigie aspettate me lo sono scritto da qualche parte quando non accetti nulla tranne ciò che hai assunto e continui nel tempo eserciti il tuo potere creativo non ti accontentare mai perché il subconscio si abitua e pian piano perdi il tuo potere creativo non importa come ma ciò che desideri diventa realtà lascia il desiderio di averlo non avere attaccamento all'obiettivo al risultato quindi non scendere ai compromessi con il subconscio poi un'altra cosa a qua mi sono appuntata oggi in palestra invece di allenarmi faccio gli appunti smetti di provare smetti di lavorarci su smetti di crescere evolvere eccetera diventa una persona che sa fa e ha ripeto smetti di provare smetti di sperare smetti di evolvere smetti di crescere diventa una persona che è sa fa e ha interessante questa è una cosa che mi è arrivata oggi nelle sessioni prima di conoscerti Ursula io non avevo problemi economici non avevo problemi qua non avevo problemi quando ho cominciato ad ascoltare le tue dirette si è scatenato tutto ma sei sicuro che non avevi? cominciare a lavorare su di sé è un po' come buttare il sasso dentro lo stagno hai alzato il polverone ma il fatto che l'hai alzato significa che hai messo la luce su questo polverone finché non c'è la luce finché non sei consapevole tutto questo sporco c'è già c'è già la melma nello stagno c'è già ma tu non sei consapevole e comunque queste frequenze questi schemi che hai avuto dentro ben nascosti creavano la vita che non volevi e quando metti la luce su ciò che hai dentro si escano escono tutti a galla ma questo perché stai diventando consapevole perché stai cominciando di prenderti la responsabilità della tua vita quello che mi è successo stanotte per una stupidaggine non ho dormito tutta la notte perché ho messo luce su uno schema che doveva essere cambiato siete pronti per la sfida numero 3? la sfida numero 3 la sfida della settimana pronta oggi è lunedì la sfida di questa settimana dobbiamo materializzare manifestare un cappello a cilindro di un colore come volete un cappello avete presente quelli da Alice nel paese delle meraviglie oppure quelli da da circo un cappello a cilindro allora buona manifestazione grazie di avermi ascoltata mi raccomando andate sulla home page del metodo mca.com e andate a vedere quattro pacchetti diversi grazie a tutti e alla prossima